Nome? Giulia. Diego. Età? 32. 39. Lavoro? Content creator. Documentarista. Come bevi il caffè? Amaro, senza zucchero lungo. Corto, con tanto zucchero. Pizza preferita? Margherita. Capricciosa. Quanti follower hai? 500.000. 168.000. Rimorchi grazie ai social? No, perché tutti sanno che sono sposata. Un po' sì, però rimorchi di più grazie al van. In che senso? Beh, vivendo nel camper conosco tante persone. Come sei finita in carrozzina? Incidente stradale, scooter trasportato dietro, scivolati su nulla, così. Un ragazzo ubriaca guidava la macchina e ci siamo schiantati su una palma. Ora, siamo qua per parlare di sesso. Hai mai fatto sesso prima della carrozzina? Sì. Sì. Hai mai fatto sesso dopo? Sì. Sì. Raccontaci le tue paure iniziali. Beh, di non piacere più, di non sentire come sentivo prima. Queste due. Di avere qualcuno troppo preoccupato di come gestire la cosa, proprio a livello fisico. Pensavo di perdere la mia virilità e di non piacere più alle donne. Come sono cambiate le zone erogene? Sono cambiate, i capezzoli sono più sensibili, il collo è molto più sensibile e il clitoride è molto più sensibile. Non mi sono aumentate molto, però sulla colonna c'è una cicatrice che è quella proprio sensibile di suo, sia al dolore che al piacere. Concordo anch'io, uguale. È vero che l'orecchio è una zona erogena? In teoria se studi proprio da sessuologa, sì. Non so se è vero per tutti, ecco. Differenze rispetto a prima? Io ho avuto l'icidenza a 19 anni, non è che io mi ricordi così bene come facevo sesso nelle mie prime esperienze, però è completamente diverso. Io ho perso la parte forte della fisicità, però è aumentata molto l'intesa con la persona. Se l'intesa c'è, adesso è molto bello perché io ho piacere attraverso il corpo dell'altra persona. Se l'intesa non c'è, è un'esperienza proprio che non ha senso di esistere, come magari potrebbe essere prima uno spogo fisico. Com'è cambiata la tua sensibilità da prima o dopo? Allora, io sento, però sento, secondo me è diverso da prima, quindi, vabbè, per intenderci sento la prima attrazione, ho l'orgato, cioè, ok, ma è diverso. Cioè, credo, perché avevo fatto una tesi anni fa, quindi avevo i ricordi belli vivi di quando avevo 19 anni, credo che prima era proprio tipo piacere picco scesa così, come se fosse una roba del genere, adesso è più così, rimane un po' e poi scende, è un po' strano. Io non ho alcuna sensibilità dai capezzoli in giù, quindi la sensibilità è cambiata totalmente, l'orgasmo ce l'ho, ma una volta a settimana, non posso tirarlo più spesso, se no mi prendono delle crisi disreflessi, che credo che si chiamino, sostanzialmente la pressione schizza su, i battiti schizzano giù ed è un'esperienza terribile, quindi fino ai sette giorni è bello, più spesso no. Raccontaci una tua figura di merda letto. Vabbè, con Andrea è stata epocale, prima volta che abbiamo fatto, credo, sesso, io avevo tutta una serie di, all'amore scusa, la prima volta che abbiamo fatto l'amore, avevo tutta una serie di paure, quindi io ero veramente tesa, 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 finito, l'ho guardato e io faccio grazie, cioè, proprio, è stata epica, magari per quello che si siamo sposati, lui ha detto, ma questa è buona, però epica. Io no, sono bravissimo, ho mai fatto figuracce, no, non è vero, una volta ho fatto cadere dal letto mentre mi muovevo e cercavo di muovermi, l'ho fatta cadere dal letto. Posizione preferita? Io sono un classicona, cioè, direi, un missionario sopra, così. No, 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 una posizione preferita, mi piace cambiare e quello che mi piace oggi, domani è diventato noioso e cerco di cambiarlo. Posizione che non puoi fare? Non lo so, farlo in piedi, proprio in piedi non ce la faccio, tutto il resto si fa. In piedi no, ovviamente, tutto ciò per cui servono gli addominali, adesso non mi viene in mente nulla, però... Ci sono degli adattamenti che utilizzi il letto? No. No. Come ci prova la gente con te? Ma io ho avuto poche esperienze, non ho mai capito se quando qualcuno, praticamente gira attorno alla domanda se posso far sesso, è come se fosse un approccio, ma non sapevo come chiederlo diversamente, o così. Sono molto più diretti rispetto a prima, sia se sono interessati, sia se non lo sono. Hai mai parlato della tua vita sessuale con dei professionisti dopo la lesione? Sì, tantissimo. No. Hai mai usato un sex toy? Sì. Sì. Fantasia sessuale inesplorata? Un bagno dell'aereo, no, no. No. Com'è cambiata la tua autostima dopo la lesione? Tanto, peggiorata, direi. Prima è crollata, poi è risalita, poi è salita tanto, poi è riscesa tanto, poi è risalita, 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 poi è risalita. Un falso mito sulla sessualità delle persone in carrozzina? È che non abbiano desiderio sessuale, in generale c'è un po' questo mito dell'assessuato ogni tanto, sì. Secondo me i primi anni il ragazzo in carrozzina, dato che perde molto, ha molta voglia, molto più di quanto uno pensi. Dai un consiglio alla persona che è appena finita in carrozzina? Secondo me bisogna provare, per capire, conoscere di nuovo il tuo fisico, come reagisce la tua mente, bisogna provare, devi provare, capire, cioè, devi capire che l'intesa può davvero cambiare tantissimo l'atto finale. Non avere paura di approcciarsi alle donne, pensare di non piacere è normale, ma non è vero, e non pensare che non si avrà più piacere nel sesso. Magari ci vorrà un po' di tempo, ma poi diventerà bello di nuovo. Ti reputi soddisfatto della tua vita sessuale? Nell'ultimo periodo, sì. Prima ho avuto una bambina, abbiamo avuto un momento di sanno. Sì. Salutatevi. Ciao. Ciao. Sono felicissima di aver fatto questa puntata, quindi andate a seguirlo, vi lascio qua il nome per esteso e lo trovate su Instagram e noi ci vediamo alla prossima intervista doppia. Ciao a tutti. Ciao Giulia. Ciao. Ciao.